Ciao a tutti, benvenuti! Io sono Laura, per chi non mi conoscesse, e questo è il mio canale dedicato all'arredamento. E oggi voglio farvi vedere come inserire il giallo e il grigio all'interno delle vostre case. Sono i due colori dell'anno che Pantone ha scelto per ispirare la moda e l'interior. La Pantone è l'azienda americana che si occupa di grafica sin dagli anni 50. Queste due tonalità accostate insieme vogliono comunicare luminosità e calma per superare il difficile periodo che stiamo passando. Illuminating è un colore brillante e pieno di luce che ricorda una bella giornata di sole. È un buongiorno ideale per una giornata grintosa, però talvolta non è facile per la sua brillantezza inserirlo all'interno delle case. Ultimate Grey è un grigio freddo, neutro, ma molto elegante. Può essere visto come un ottimo sostituto del bianco nelle case moderne. Quindi come inserire il giallo e il grigio nelle nostre case per sentirsi al passo con i tempi? Eccovi delle idee semplici ed effetto che ho selezionato da Instagram per inserire questi due colori nelle nostre abitazioni. Un'idea facile per mixare queste due tonalità è quella di sceglierle per i tessili, come cuscini, coperte, tende. Perché magari non buttare un bel plaid giallo sul nostro divano grigio? Chi di voi non ha già un divano grigio? In questo caso invece è la parete ad essere grigia e il giallo riesce ad ravvivare l'ambiente. Oppure perché non inserire in un angolo della nostra casa, su una parete, una carta da parati floreale o geometrica con delle tonalità sul grigio o sul giallo? Perché non inserire una riga gialla alternata ad una riga grigia? Per le più audaci perché non inserire un elemento forte come una poltrona o un divano giallo? Fatemi sapere qui sotto se vi piacciono questi accostamenti di grigio e giallo. Ciao, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e grazie per essere state con me. Ciao!